tanto lo sai già come? lo conosco ah questo qua eh che ti hai pensato? quanto? come? io porto mezzogiorno quando hai fatto tutti i piatti ah ma io che ti? Caroline poi dopo ho marito Caroline io voglio stare su Facebook stasera la donna la pulce la pulce e il marito di pulce a Robby stasera su Facebook che vi sputtano a tutti e così va e il figlio di Caroline buongiorno e il figlio mio e voglia o segui e il bombarolo tutte le fume siete tutti i pippaioli come si capisce che sparano? non lo so come si capisce che sparano? no dico posso rispegnere e riaccendere? via non lo so non lo so non lo so non lo so